E ciao tappi belli, abbiamo tante cose da duntiare, proprio così tigro! Scusa, infatti la prossima settimana sarà molto intensa perché tornerò finalmente ad esibirmi con l'una ma ancora prima di esibirmi con lei la vedrò da spettatore perché lei infatti andrà in scena insieme a tutti i suoi compagni d'accademia, la SDM, scuola di musical tra le più prestigiose in Italia nello spettacolo Sweet Charity, che è appunto un musical ovviamente, e al Teatro Nazionale di Milano, che poi è lo stesso dove hanno fatto Mary Poppins e tanti altri musical strafighi martedì 4 giugno alle 20.45, si stanno facendo un mazzo tanto questi ragazzi, lei non dorme più mi risponde ai messaggi una settimana dopo, quindi veramente merita che anche voi che la seguite andiate a vederla ci tiene molto, 4 giugno Teatro Nazionale di Milano, invece noi saremo poi come vi dicevo insieme all'Etna Comics a Catania lì ci sarà il nostro Disney Show giovedì 6 giugno verso le ore 17, poi vi aggiornano i prossimi giorni giorno, giorni, giorni, e saremo lì anche venerdì 7 solo per un incontro, sessione domande risposte quindi niente show, lo show solo giovedì e insieme poi andremo, ah ci sarà anche firma coppia di ci scusiamo per il disagio andremo poi insieme al Comics Fest di Verona, anche lì spettacoli, tantissime altre attività ve le ho scritte tutte nel post dedicato appunto al Comics Fest, quello dove ci sono io che mi giro così quello lì, e niente, Milano, Catania, Verona, poi Movieland, questa domenica c'è anche l'evento dedicato ad Harry Potter e M vuoi aggiungere qualcosa mentre Tigro giace morto lì? no, mi dispiace per Tigro e tanti saluti a tutti